Musica Telespettatrici e telespettatori di Rossini TV, buongiorno, benvenuti anche oggi a Casa Rossini. Siamo come ogni lunedì, mercoledì e venerdì in diretta, sono le 10 e una manciata di secondi, un minuto e poco più. Naturalmente, come sempre, apriamo dando anche i riferimenti per i contatti con noi e con gli ospiti della giornata, 351 708 9977 è il numero WhatsApp attraverso il quale voi potete inviarci messaggi, dediche, saluti, auguri e anche domande, perché no, nonché filmati, video, foto, insomma quello che preferite per mettervi in contatto con noi, poi approfittando del fatto che appunto la prima edizione di ogni puntata va in onda e in diretta, come siamo appunto in diretta in questo momento. Casa Rossini, chiocciola, rossinitv.it è invece l'indirizzo mail per fare più o meno le stesse cose, ma se invece di un numero WhatsApp avete a disposizione un computer o comunque avete preferito inviare mail, potete farlo appunto a questo indirizzo. Entriamo nel vivo della giornata ricordando che oggi è il 12 febbraio, 43esimo giorno del calendario gregoriano, parleremo poi del calendario gregoriano di che cos'è, mancano 322 giorni alla fine dell'anno, lanciamo anche il sondaggio del giorno, il sondaggio del giorno è una piacevole e divertente novità che abbiamo introdotto da qualche settimana, è una cosa divertente naturalmente nel senso la proponiamo senza avere pretese di statistiche particolari, vi proponiamo una domanda alternativa tra due possibilità, quello che preferite, per esempio l'altro ieri la domanda era tra contanti e digitale, il sondaggio poi resta aperto perché va anche sulla pagina sulla storia Instagram, resta aperto e vi riferisco di come è andato a finire il sondaggio dell'altro ieri, digitale 82% e contante 18%, bel segnale, a mio parere sono tra quelli convinti che la moneta contante sia anacronistica come le conchiglie con le quali si scambiavano gli indigeni, i beni e i servizi all'epoca. Il sondaggio di oggi è auto o moto, ci avviciniamo alla bella stagione, qualcuno comincia a rispolverare la moto e è ora di cominciare a decidere e a pensare, sappiamo per certo che tra i nostri telespettatori ci sarà qualcuno che non molla mai la moto neanche d'inverno, o qualcun altro che invece preferisce l'auto anche nelle giornate più a forza estive, ma tra voi siamo curiosi di sapere cosa predominerà, auto o moto, questo è il tema del sondaggio e potete risponderci sia ai numeri di contatto che sulla pagina Facebook e Instagram. Oggi secondo Personology è il giorno dell'unificatore ed è anche il giorno di Darwin, in inglese naturalmente è il Darwin Day, è una celebrazione in onore di Charles Darwin, padre della teoria dell'evoluzione, si tiene in occasione dell'anniversario della sua nascita appunto che era il 12 febbraio. Questa tradizione è nata inizialmente in Inghilterra e negli Stati Uniti, vedete un simpatico fumetto sulla teoria dell'evoluzione, negli Stati Uniti immediatamente dopo la morte di Darwin stesso nel 1882 continua tutt'oggi in tutto il mondo, qui vediamo il suo libro più importante, quello che ha dato la base per tutto quello che è seguito poi sul discorso delle teorie dell'evoluzione, l'origine delle specie, questa è proprio la coppia originale, la prima edizione, questa invece è la coppia rintracciabile in qualunque libreria per qualcuno che volesse approfondire. La Chiesa Cattolica oggi celebra i martiri di Abitina, 49 cristiani giustiziati nel 304 in Africa, nell'attuale Tunisia, per non aver rinunciato alla loro fede, dunque venerati come santi dalla Chiesa Cattolica. Allora, abbiamo una notizia importante che ci fa molto piacere, prima di andare a conoscere alcuni eventi del 12 febbraio, vogliamo darvi una notizia importante, Roberto Bartolini, il grafologo che ricorderete, grafologo tra tante altre cose, che ricorderete è stato nostro ospite qualche settimana fa, ha accettato di tornare a trovarci e abbiamo concordato con lui la possibilità di creare un appuntamento per ora fisso al mercoledì 24, ma che potrebbe addirittura, in base al vostro consenso, alla vostra adesione alla proposta, diventare un appuntamento periodico, il mercoledì 24 tornerà a trovarci ed è disponibile a valutare, a studiare, a dare responsi grafologici sui vostri scritti. Per cui, se avete voglia di sottoporre il vostro scritto all'esame grafologico di Roberto Bartolini, potete cominciare a inviarcelo, una decina di righe, non c'è bisogno di firmare, non c'è bisogno che abbiano un senso particolare, non è quello che è scritto, ma è come è scritto, che è importante, per cui potete cominciare a inviarcele ai contatti, di cui vi ho già dato indicazione, 351 708 9977, il numero WhatsApp, oppure casarossini, chiocciolarossinitv.it. Ma come faccio a inviare una cosa che ho scritto a mano, qualcuno si chiederà? Facile, la fotografate e ce la mandate, facilissimo. Lunedì parleremo anche delle maschere marchigiane, perché c'è stata una segnalazione di una nostra telespettatrice che ha detto guarda un po' qua, ci sono cose interessanti, ma ne parliamo lunedì, visto che è il giorno prima di martedì grasso, alcuni eventi storici del 12 febbraio. Nel 1912 la nuova Cina repubblicana, quella volta nel 12, ha adottato appunto il calendario gregoriano. Il calendario gregoriano è il calendario solare ufficiale di quasi tutti i paesi del mondo, prende il nome da Papa Gregorio XIII, che lo introdusse il 4 ottobre 1582, pensate un po', basato sull'anno solare, cioè sul ciclo delle stagioni, corregge il vecchio calendario giuliano in vigore dall'anno 46 a.C. al 1582. Questo simpatico disegno mette in relazione il calendario gregoriano con il calendario cinese, che invece è basato sulla ricorrenza dell'anno di certi animali, l'anno del topo, vedo l'anno del coniglio, eccetera, eccetera. 1947, sui monti Sicote-Alin, che è una catena montuosa della Russia, cade un grande meteorite. La luce e il potente tuono furono percepiti fino a 300 km intorno al punto d'impatto. La scia di fumo di una trentina di chilometri rimase nel cielo siberiano per diverse ore prima di dissolversi. Come il meteoroide, frammento roccioso metallico, entrò nell'atmosfera alla velocità di circa 14 km al secondo, ho fatto il calcolo, sapete quanti sono 14 km al secondo? 50.000 km all'ora, andava abbastanza veloce. Ovviamente appena è entrato in atmosfera ha iniziato a frammentarsi. A 5 km c'è stata una violenta esplosione, si è frammentato in una moltitudine di frammenti e prima di toccare il suolo è meno male. Alcuni dei frammenti di maggiore dimensione hanno creato dei crateri, il più largo dei quali ha un diametro di 26 metri ed è profondo 6 metri. Questo è uno dei frammenti ferrosi arrivati dallo spazio. 1951 è la terza ricorrenza, parliamo sempre del 12 febbraio, la 19enne Soraya Esfandiari Batchiari sposa lo Shah di Persia. In Italia era conosciuta semplicemente come Soraya, la principessa Soraya nel palazzo di Golestan di Teran ha sposato lo Shah di Persia Rezza Palavi, poi si separeranno due anni dopo, la principessa riprenderà la sua attività di attrice per la quale sarà discretamente famosa, pur mantenendo tra l'altro per sempre il titolo di principessa. Pensiero del giorno, senza crollo o decadimento non ci sarebbe nessuna rinascita, per cui accettate di buon grado anche momenti in cui stiamo un po' decadendo. A questo punto, finalmente, dopo questa lunga introduzione, ma ve la spieghiamo dopo perché l'abbiamo fatta anche un po' più lunga del solito, accogliamo con un applauso virtuale il primo degli ospiti, il sindaco di Petriano, Daniele Fabrizzioli. Sindaco, buongiorno. Grazie, buongiorno. E ha ascoltato con attenzione tutta la nostra introduzione. Sì, faccio i complimenti Paolo, ci diamo del tu, abbiamo dei trascorsi anche di famiglia Gallo di Petriano, poi dopo diremo, quindi sì, complimenti perché poi sono notizie che non tutti i giorni vengono lette, quindi notizie particolari, notizie che credo che vogliano suscitare anche nei telespettatori, un po' di curiosità, un po' di voglia anche di tornare a rivisitare notizie antiche. E approfondire, è vero, ha identificato lo scopo, lo scopo non è solo far sfoggio così di ricerche, di cose, ma proprio stimolare, dire aspetta voglio andare a vedere, è vero, la principessa Soraya me la ricordava, adesso vado, insomma dare lo stimolo per approfondire perché viviamo un'epoca che forse è caratterizzata da un po' troppa superficialità, cioè si va veloci ma senza mai approfondire qualcosa, invece così forse stimoliamo qualcuno. Per esempio nell'ambito dell'approfondimento noi stiamo con i sindaci della nostra provincia approfondendo la conoscenza del territorio petriano, petriano, ma dov'è petriano qualcuno si domanda, perché molti ovviamente andando a Urbino passano al Gallo. Sì, concordo, infatti spesso in confronto con qualcuno, qualche amico anche qua di Pesaro, conoscono molto bene Gallo, un po' meno petriano. Petriano diciamo è sul cucuzzolo sopra Gallo per andare a Isola del Piano e da dove nasce comunque il comune di per sé, la municipalità di Petriano. All'epoca c'era un agglomerato di case su a Petriano, mentre invece giù a Gallo c'era poco. Successivamente con l'avvento diciamo dell'industria e dopo la seconda guerra mondiale il paese si è sviluppato prevalentemente giù a Gallo e il grosso della popolazione attualmente su un 2.900 abitanti, quasi 2.500 sono giù a Gallo. Ma sono spostamenti che comunque diciamo si percepiscono legati alle vie principali, alle direttrici principali, però non spostano in fondo la vita che si svolge in questi centri, tutto sommato si fa vita di paese se si vuol fare o si diventa una zona dormitorio nel caso poco auspicabile che ci sia poca invece, poco motivo per restare in paese. Però aspetta che prima stavo saltando il momento che è più divertente di tutti che è quello di andare a scoprire che cosa riserve il libro Personology per i nati il 21 maggio. Davide Fabrizioli, lo ricordiamo è nato il 21 maggio, andiamo a vedere, il giorno della visione è infallibile, già è già battuta. Ma prendo come un complimento. Esatto, i nati il 21 maggio non solo hanno un'acuta visione delle cose, anche a lungo termine, ma hanno anche la tenacia di rimanervi legati a qualunque costo. Una volta intrapresa una battaglia non l'abbandoneranno per quanto grandi siano gli ostacoli che incontreranno. Questo per un sindaco è una bella caratteristica. Nello stesso giorno sono nati Sakharov, il fisico sovietico studioso della fusione nucleare controllata, Raymond Burr, attore statunitense noto in Italia per aver interpretato Perry Mason, e Albrecht Dürer, il pittore incisore tedesco, molto famoso per chi è esperto per queste lezioni dei maestri rinascimentali. Intrepido, coraggioso, di successo sono i pregi che il libro attribuisce ai nati in questo giorno. Adesso forse anche troppo. I difetti non li leggiamo più. Il nome di origine baica significa amato, insomma il quadretto è perfetto, sindaco. Messa così direi di sì, poi chiaramente abbiamo detto solo gli aspetti positivi. Al di là di questo sono, credo, prerogative che qualsiasi sindaco debba avere. Quelle che abbiamo nominato. Un sindaco che sono 25 anni che è in barricata, o no? Sì, è vero, quasi vicino al prepassionamento, se volevi dire questo lo accetto. Anzi, era ed è un complimento, consigliere, assessore, poi sindaco, e poi sindaco al secondo mandato. Ho imparato a sottolinearlo, questo fatto del secondo mandato, perché secondo me è significativo. Vuol dire che nel primo mandato si è seminato bene e nel secondo è ora di raccogliere, no? Sì, chiaramente il primo mandato è un mandato dove chiaramente uno ha una veste nuova, perché comunque fare il sindaco oggi, devo ammettere, è quasi diventata una missione, con tutte le problematiche burocratiche che abbiamo. Poi dopo un paio d'anni si comincia a prendere le misure e chiaramente il secondo mandato serve proprio, a mio modo di vedere, con l'esperienza che ho acquisito nel primo mandato, per andare più veloce nelle decisioni e nelle scelte affinché il paese comunque venga dietro. Certo, e ricordiamo che i sindaci dei piccoli comuni hanno la necessità di mantenere il loro lavoro principale che li fa vivere, perché chiaramente non c'è un rimborso che giustifica l'abbandonare il lavoro e concentrarci unicamente su quello dal punto di vista economico, ma dall'altro l'impegno è grosso. Sì, l'impegno è grosso e soprattutto è H24, perché comunque spesso accade che ci siano delle emergenze anche serali o notturne e chiaramente nei piccoli comuni il cittadino chiama direttamente il sindaco. Io, come sempre dico, anche il sabato e la domenica, quando spesso mi trovo nei locali di paese, mi fa piacere anche parlare con la gente, anzi, credo che questo lo sappiano tutti, anche perché se non si parla con le persone, poi alla fine le persone vengono lasciate sole. Viviamo un'epoca dove va tutto molto veloce, su internet scriviamo tutti, sui social network ci sentiamo tutti dei leoni, poi magari quando dobbiamo affrontare su un tavolo un discorso ci tiriamo indietro. Diventa più impegnativo e complicato. Quindi, infatti, quello che dico a tutti, il messaggio che mi piace trasmettere è quello che apriamo un dialogo costruttivo, poi chiaramente ognuno ha le sue idee, non sempre l'amministrazione può dire di sì, deve ogni tanto anche dire di no, quindi voglio dire anche il no deve essere motivato ed accettato da parte del cittadino. Questo credo che sia la costruzione che dobbiamo fare tra i cittadini e le istituzioni, che purtroppo ormai da tanti anni questa cosa non c'è più. Però nei piccoli comuni, mi sembra di parlare a nome mio, ma anche a nome di tanti altri sindaci del territorio, questa cosa avviene. Quindi voglio dire, anzi, posso dire che tutti i sindaci della provincia lo fanno, difficilmente non avviene. Il problema se mai ce l'abbiamo su delle istituzioni più elevate, dove il cittadino non ci sente più rappresentato. Perché stiamo ospitando nel nostro salotto di Casa Rossini diversi sindaci, stiamo puntando a ospitarli tutti, per cui stiamo completando l'album. Ed è divertente trovare analogie, differenze, però la visione comune è proprio questa e l'immagine che esce è proprio questa. Cioè il piccolo comune ha necessità di farsi conoscere, per cui farsi conoscere verso l'esterno, ma ha necessità anche di essere amministrato bene nei confronti di quelli che ci vivono quotidianamente. Perché non è solo un parco a tema che viene aperto, allora magari un altro giorno eravamo con il sindaco di Cartoceto, allora il parco a tema Olio, oppure siamo con il sindaco di Monte Labbate, il parco a tema Pesche, oppure parleremo di quale può essere il parco a tema di Petriano, con le terme o con le manifestazioni. No, cioè è anche un posto dove c'è la gente che vive, che torna a dormire dopo essere andata a lavorare da un'altra parte, ma magari anche invece vive e lavora nello stesso territorio. Per cui va fatto un lavoro doppio, cioè da una parte costruire bene per gli ospiti che vengono da fuori e trovare il modo giusto per accoglierli, ma dall'altra far star bene quelli che sono i residenti. Il tema è importante perché? Perché poi chi lo fa è qualcuno che già in prima persona risiede, e spesso risiede lì da sempre, no? Sì, certamente, quindi io personalmente mi ritengo un gallerino doc, nel senso che provengo da Gallo e quindi sono sempre cresciuto all'interno anche delle associazioni di Gallo, conosco benissimo il territorio, chiaramente con Petriano c'è una distanza di 3 km, quindi il campanilismo che poi c'era una volta tra Gallo e Petriano oggi non c'è più, quindi parliamo comunque di un unico comune e la conoscenza che personalmente ritengo di avere sul mio comune mi permette spesso di affrontare delle tematiche che ormai sono quasi quotidiane. La regia ci sta mandando un po' di immagini che possiamo anche commentare volendo, prima di entrare poi negli argomenti dei quali abbiamo preso qualche appunto. Sì, queste sono delle manifestazioni che prevalentemente vengono fatte nel periodo giugno, luglio, agosto e settembre, chiaramente il periodo estivo, ogni associazione del paese spesso organizza uno o due eventi, che in questi eventi poi vengono inserite tutte le altre associazioni, perché comunque da noi l'associazionismo, il volontariato è molto sentito, i giovani partecipano sin dai 15-16 anni, e questo ci permette comunque di poter unire un po' tutte le fasce di attacco, come ad esempio questi sono i giochi di quartiere che abbiamo iniziato a fare tre anni fa, e all'interno del contesto della festa di San Bernardino, il patrono diciamo di Gallo, dove ogni quartiere del comune, il comune è diviso in cinque quartieri, in cinque colori diversi, quindi c'è una programmazione, una preparazione di ogni quartiere all'evento, che poi dura due giorni e c'è una classifica finale con un quartiere che vince i giochi di quartiere. È diventata una manifestazione molto sentita, purtroppo nell'anno 2020 non è stato impossibile effettuarla. Parleremo del 2020 che ha creato la necessità di interrompere anche il fiore all'occhiello delle manifestazioni di Gallo, ma ne parliamo fra un po'. Quest'altra foto invece vedo una bella coda. Sì, è l'arrivo che avviene ogni 9-10 anni della Madonna del Giro, anche da noi la parrocchia è molto partecipata, quindi questa è la Madonna del Giro che passa all'interno di nove parrocchie, e quindi ogni anno, è arrivata da noi proprio nel 2020, questo era il precedente arrivo, ma purtroppo nel 2020 è stata un po' ridotta, a causa sempre Covid, e speriamo nella ripartenza di poter effettuare una manifestazione decorosa. Questa è una manifestazione che facciamo con anche tutte le associazioni sportive, questo è il Gallo che corre, dove praticamente c'è un gruppo appassionato di corse in paese, aggregato con anche un gruppo sportivo di Urbino, e siamo arrivati alla terza manifestazione, teniamo presente che nell'ultimo anno, nel 2019, c'erano addirittura 1.600 tanti iscritti, che comunque per... 1.600 tanti iscritti su 2.981 esitanti, praticamente tutti. Ancorsi tutti, sì, tranne quelli che non potevano. Eh, proprio eravamo, insomma, alla capienza massima. Sì, questa invece è la manifestazione dell'Avis che organizza con tutte le Avis provinciali nel nostro centro civico, viene effettuata la festa tutti gli anni nel mese di luglio, molto partecipata non solo dai residenti, ma anche da tutte le Avis provinciali, da noi io dico sempre è una delle prime Avis a livello provinciale, e ringrazio tutti i presidenti che si sono susseguiti nel tempo, perché comunque per noi è un fiore all'occhello, in quanto ogni anno, anche l'anno scorso, nel 2020, abbiamo un segno più a livello di nuovi donatori e di numero di donazioni, cosa molto importante, perché comunque è un'associazione completamente di volontariato, e il sangue serve tantissimo. E qui entriamo in uno dei punti che ci eravamo segnati, i nostri telespettatori, questa cosa è, i birocini sono? Sì, questa è la festa dei birocini, che praticamente è una discesa, anche a volte pericolosa, ma comunque tutto sotto controllo, da Petriano giù a Gallo, sono due chilometri di discesa, questi adesso nello specifico i tre che vediamo non hanno freni, quindi vanno giù e frenano un po' all'occorrenza, chiaramente ogni tanto c'è stato qualcuno che è andato fuori strada, è un minimo di rischio, in tutti gli sport a ruote in qualche modo c'è un minimo di rischio, per forza. Stavo dicendo che i nostri telespettatori sanno che naturalmente io mi sento telefonicamente con gli ospiti qualche giorno, qualche ora, addirittura prima di averli in studio, però poi dopo noi andiamo in diretta nel vero senso della parola, per cui non è che abbiamo un copione da seguire, ma un po' di appunti ce li avevamo. Uno degli ultimi temi in scaletta era quello che invece abbiamo affrontato per primo, però mi preme sottolinearlo, questo dell'associazionismo, l'associazionismo si diceva, ci siamo detti, è un tema importante, perché il pubblico dappertutto non arriva per risorse, l'ente pubblico non arriva, per cui l'associazionismo fatto di volontariato e di gestione in qualche modo privata, se vogliamo, come posso dire, colma le lacune, però va governato, giusto? Com'è il rapporto tra l'amministrazione e queste associazioni così attive come abbiamo visto in queste foto? Noi come amministrazione di Petriano abbiamo un rapporto ottimo con tutte le associazioni del paese, questo io lo ritengo non solo una virtù ma un grosso vantaggio, perché chiaramente in ogni iniziativa tutti partecipano, anche se l'iniziativa parte dall'associazione sportiva, la Proloco, l'Avis e la protezione civile, partecipano senza nessun problema dando un contributo molto attivo, ma soprattutto spesso a me accade come sindaco e anche come comune che la burocrazia nostra ha un po' delle lacune e quindi spesso questo terzo settore, io lo chiamo, di volontariato riesce a sopperire questa lacuna innegabile e non è sempre semplice, quindi voglio dire spesso anche all'interno delle associazioni ci sono persone che aiutano proprio anche l'aspetto sociale della comunità e questo è molto importante, perché anche lo stesso cittadino si sente all'interno di queste associazioni, partecipe poi successivamente della comunità. Esatto, esatto, perché l'equilibrio delicato è proprio quello, cioè evitare che le associazioni dilaghino, ma allo stesso tempo prendere tutto il contributo che queste associazioni possono dare in termini di socializzazione e di tutto quello che sono anche operazioni attive vere, importanti. Sì, no, ma sono pienamente d'accordo, sono essenziali per una comunità che comunque si riconosce all'interno di un volontariato, di un associazionismo, ma non solo nell'evento di per sé che organizza annualmente, ma anche nella quotidianità e questo è l'aspetto secondo me molto importante per una comunità. Nella telefonata di cui parlavamo prima, io prima di tutto abbiamo deciso di darci del tu e poi dopo la seconda cosa io ho detto ma allora Davide, sindaco, di cosa parliamo di Petriano? perché ammetto, confesso, che quando facevo l'università a Gallo ci passavo anche per forza per andare a Urbino, però io a Petriano non sono neanche sicuro di essere mai salito praticamente. E lui mi ha detto come di cosa parliamo di Petriano? Eh, ma di Petriano possiamo parlare delle terme per esempio. E io ho detto è vero, perché poi il bello è che noi sappiamo un po' tutto, no? Se stiamo attenti, leggiamo i giornali e tutto, però poi finisce tutto in un po' un calderone e lo scopo di questa trasmissione è anche quello. Allora Petriano, terme. Le terme di Petriano... Noi, io dico convanto, siamo l'unico stabilimento termale rimasto nella provincia di Pesaro Urbino. Quindi ritengo che sia quasi un patrimonio per la nostra provincia, non solo di Petriano. Sono chiamate, il nome lo prendono dal nome molto importante perché comunque le terme di Raffaello e diciamo che il duca d'Urbino all'epoca mandava spesso le sue personalità e anche sua nipote Raffaello a curarsi e a rigenerarsi nelle terme a Petriano. Per cui non è un'invenzione degli ultimi anni. Non è scritto anche nel... Una roba storica. È anche ben documentato e quindi il nome è stato proprio preso appunto perché ci sono dei documenti storici. Certo. E noi, ripeto, sono le uniche terme rimaste. Quindi cerchiamo ogni anno, perché comunque trascurando il 2020, dove è stato purtroppo difficile fare termalismo nel 2020. Comunque lo abbiamo fatto e d'accordo con la Presidente, la Roberta Piccioni, ogni anno organizziamo un periodo che è da aprile fino alla fine di novembre, perché il periodo proprio termale è quello, dove tutta la struttura è a disposizione per chiunque voglia partecipare. È una struttura che secondo me deve essere valorizzata maggiormente, quindi, perché quello che facciamo spesso è un numero inferiore, abbiamo dovuto vedere, a quello che potrebbe fare. Però più di quello che viene fatto in questo momento è difficile. È difficile perché il 90% degli ingressi alle termini Petriano sono sanitari. E fino ad oggi noi dalla Regione abbiamo avuto un budget. Finito quel budget, chiaramente non possiamo prendere, non possono prendere altre persone per fare... Lo spieghiamo, praticamente è un trattamento sanitario che viene passato dal Servizio Sanitario Nazionale. Il Servizio Sanitario Nazionale ha un certo budget da destinare alle strutture. Quando il budget finisce, cioè sostanzialmente, teoricamente le persone a quel punto non sono più coperte, dovrebbero pagare. non vanno a pagare, per cui a un certo punto dell'anno il budget si esaurisce e si... Sì, dopo c'è il famoso extra budget, però giustamente il Presidente delle Terme mi dice che l'extra budget poi diventa complicato, quantificare il periodo di incasso dell'extra budget, e quindi adesso abbiamo intavolato, ormai da un paio d'anni, con la Regione una trattativa per cercare di aumentare il nostro budget, perché essendo le uniche Terme rimaste, tutta la provincia o va fuori Regione oppure si concentra qua. Detto questo, noi abbiamo un'acqua sulfure a tripla A, quindi a livello ministeriale, che è il massimo che possa ottenere, quindi molto curatura, una cura molto buona, soprattutto per inalazioni, insufflazioni, per le problematiche di respirazione o di quant'altro. Poi abbiamo la piscina, comunque anche questa è una piscina curativa, e effettuiamo anche fanghi, massaggi e quant'altro. Per cui diciamo che la vacanza alle Terme potrebbe finalmente diventare anche un riferimento dal punto di vista turistico, questo è un po' il sogno, no? Sì, infatti questa è la mia aspirazione per i prossimi anni, perché comunque ritengo che parecchi turisti che arrivano nella provincia possano iniziare a valutare anche un percorso termale. Non dico che si debbano fermare da noi da Petriano una settimana o dieci giorni, però il turista che viene a Pesaro al mare d'estate, se uno o due giorni voglia avvicinarsi a un percorso termale, perché no, la distanza sono 20 chilometri. Però questa cosa ci stiamo lavorando da un paio d'anni e deve essere approfondita ma soprattutto spinta. Quindi mi auguro che questa visione, anche per quanto riguarda il consorzio degli albergatori di Pesaro e anche di Urbino, possa far presa. Avrete notato nel filmato che la regia aveva fatto passare che c'era un riferimento anche alle Terme di Riccione, perché la gestione è comune, no? Sì, la proprietà delle Terme di Raffaello è la stessa proprietà delle Terme di Riccione. Chiaramente questo ci ha permesso nei periodi di crisi delle strutture termale di restare aperti, perché chiaramente avendo due siti e comunque hanno una gestione che grazie a Riccione Terme riescono con lo stesso personale ad ottenere due siti, perché diversamente, come abbiamo visto per le altre strutture provinciali, il settore del termalismo negli ultimi 7-8 anni come unica struttura ha sofferto. Quindi questo per noi è stato importante. Io ho riferito alle Terme, c'è un ricordo antico, quando ero veramente bambino, 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 prima della scuola, per cui proprio bambino, andavo con mio nonno alle Terme di Carignano, che sono una spina nel fianco per noi proprio di Pesaro. L'idea è che quel posto, magnifico, perché veramente era un parco meraviglioso, non si riesca più a far funzionare, sarebbe bello se le Terme di Riccione e di Petriano mettessero gli occhi anche, sto dicendo una cosa di cui non so niente, naturalmente, per cui può darci che stia dicendo anche una follia, però sarebbe bellissimo, perché è una stazione termale così vicina, tra l'altro a Pesaro. Sicuramente è uno di quei siti illustri, inevitabile. Va bene, ma tra i ricordi antichi c'è neanche un altro, il ricordo antico delle prime edizioni del Gallo d'Oro, perché siamo appunto adesso a parlare della manifestazione Fiore all'Occhiello del territorio, del vostro territorio, che ha 50 anni di vita. Nel 2020 avremmo effettuato la cinquantesima edizione del Gallo d'Oro, chiaramente non è stato possibile, stiamo valutando proprio in questo mese se fare il cinquantesimo quest'anno, chiaramente ci sono un po' di titubanza, perché il cinquantesimo vorremmo che sia un fiore all'Occhiello per tutti gli anni scorsi, però dobbiamo comunque constatare che è una manifestazione che io sarei per farla quest'anno, per cercare chiaramente con i dovuti criteri a livello di sicurezza e sperando che i contagi del Covid non continuino, e ci permette di impostare, come sempre abbiamo fatto, la nostra manifestazione regina. I più attenti noteranno che in queste immagini c'è anche la nostra Emanuela Rossi, che è la presentatrice ufficiale. Sì, lei credo che sia già il quarto anno come sia la presentatrice ufficiale, quindi conosce benissimo la nostra realtà. Poi negli ultimi 6-7 anni abbiamo deciso di elevare un po' la qualità dei cantianti e quindi d'accordo con anche diverse case discografiche, che comunque fino a dieci anni fa ho cantato anch'io, quindi potevano cantare tutti. Potevano cantare tutti, vero? E questo cambio di passo è stata una visione giusta, perché oggi abbiamo cantanti a livello nazionale e i vincitori poi vanno sia a Castrocaro che a Sanremo Giovani. Diventa laboratorio di scoperta talenti da portare poi a... Poi abbiamo investito molto anche sulla giuria, infatti è stata fatta sempre una giuria di qualità, presa poi da anche radio nazionali e quindi questo con anche giudici che hanno fatto tale talent scout a livello nazionale, quindi questo ci ha permesso di... Il cantante che viene al Gallo d'Oro oggi è una vetrina ed un palcoscenico che poi è un trampolino di lancio a livello nazionale, anche perché manifestazioni che hanno ora così ce ne sono rimaste poche. Noi siamo sicuramente la più longeva della regione Marche, ma qualcuno mi dice anche della regione Limitrofi. Io me lo ricordo appunto negli anni 70 che venivo, perché il mio babbo Carlo, anche in questo caso ogni tanto lo devo mettere in mezzo, ma purtroppo ne ha fatte veramente tante, era ospite così con le sue gag, con le sue cose, allora io lo accompagnavo nel 70 da 13-14 anni insomma e venivo a vedere. Cantare non ci ho mai provato, devo dire la verità. L'unica cosa che ho provato è... Io sono stato nel coro del Grillo d'Oro, ma era un'altra cosa. per la chiesa dei cappuccini, ma nel coro, rigorosamente nel coro. Da noi diciamo a Petriano e Gallo, in parecchi comunque da bambini o da ragazzi, hanno provato anche questa cosa. Certo. Insomma, sta manifestazione è come se avesse 49 anni per sempre, per adesso, finché non vi decidete, no? Esatto. Non vuole decidersi a diventare cinquantenne, insomma. È vero, è vero. Siamo lì che aspettiamo. Qualcuno dirà, ma com'è che la stanno facendo lunga oggi e non hanno tutta la fretta che hanno di solito? Allora, a questo punto vi posso svelare il secondo ospite della giornata, che i più attenti sapranno doveva essere Elena Parato, ci ha mandato un messaggio, ci ha chiamato poco prima all'inizio della puntata, non può essere presente per motivi molto importanti. Insomma, avremmo forzato la mano se non fossero stati motivi importanti, invece non può esserci. Sarà con noi più avanti, per cui abbiamo deciso tranquillamente di prendercela un po' più comoda col primo ospite, di anticipare il secondo e poi andiamo avanti. Per cui diciamo che per oggi siamo un po' più calmi del solito rispetto alle altre puntate nelle quali i minuti volano. A me fa piacere. A me dispiace poi il secondo ospite, ma fa piacere. Infatti, adesso a questo punto, se vogliamo aggiungere qualcosa sul Gallo d'Oro, non so se hai qualcosa da aggiungere. Allora, proprio in questi giorni, dicevo, entro il mese di febbraio decideremo se effettuarlo e come effettuare il cinquantesimo. Ho parlato con la Presidente della Proloco, che poi è l'associazione che organizza il Gallo d'Oro, abbiamo diversi cantanti che ci hanno contattato perché vorrebbero ripartire. Questa cosa a me fa piacere anche non solo per la manifestazione, ma perché, come prima hai detto te in quelle bellissime presentazioni, dopo le ceneri c'è una rinascita. Io questa cosa in tutti i settori la sento. Come dicevo anche adesso nel Gallo d'Oro, diversi cantanti ci stanno sollecitando per partire perché comunque vogliono partecipare e dicono è tanto tempo che siamo fermi e quindi dateci la possibilità di... quindi questa cosa ci stimola molto anche se dobbiamo tenere presente che ci sono al momento una serie di punti bui. Quindi stiamo cercando di valutare... Vi dovete dare una data però, vi dovete dare una data nella quale poi si decide perché poi quando si decide bisogna cominciare a fare con quella filosofia di cui parleremo dopo col prossimo ospite che è Cristian della Chiara, che è già qua, la filosofia del come se. Si parte dicendo come se va tutto bene, per cui dobbiamo fare, perché sennò rimanendo in un limbo non si arriva a fare bene niente. Sono d'accordo, quindi io ritengo che si debba partire. Chiaramente poi dopo non decido solo io, c'è un gruppo di lavoro dietro, quindi ci siamo andati come scadenza a fine febbraio, dopodiché una volta partiti chiaramente cercheremo di mettere subito la quinta. E ci farete sapere immediatamente in modo che noi cominceremo già a dire qualcosa. Però questa volta Paolo può darsi che ti toccherà anche cantare. Ah, addirittura! Mancherebbe solo quello, mi manca solo quello nell'elenco. Devo dire che qualche volta, qualche cantata in amicizia l'ho fatta anche dai palchi, perché avendo comunque un trascorso, ma che perdura nel mondo dell'animazione, lì tutto è concesso, per cui gli animatori, come dico sempre, sanno fare tutto o niente bene, però fanno tutto quanto. E ho anche cantato. Ballare mai invece, ballare non ce l'ho mai fatta, è più forte di me, non riesco. Cantare, diciamo che alla fine ti sentire. ci si è andato. Si, si tira fuori. Allora, siamo quasi in chiusura, abbiamo detto quasi tutto, ci sono un po' di cose da dire sul discorso del territorio, punto noleggio bike area per turisti, queste novità un po' legate proprio al territorio, dal punto di vista proprio, come posso dire, del terreno. da un paio di anni abbiamo cercato di investire anche a livello comune di bilancio e abbiamo presentato un paio di progetti destinati a dei percorsi in natura. Quindi abbiamo presentato ed ottenuto dei finanziamenti per quanto riguarda dei punti di noleggio e bike, quindi nel 2021 faremo i miei lavori, ad un punto di parcheggio per camperisti, quindi per cercare di attrarre sempre vicino alle terme alcune forme di turismo che comunque siano alternativi al mare e alla montagna. Io mi immagino che magari fra tre o quattro anni ci possa essere a Petriano la possibilità che il camperista arrivi si faccia i suoi tre o quattro giorni alle terme, si faccia i suoi percorsi in natura, prenda dal punto noleggio bike e poi io dico sempre da noi sia Gallo che Petriano siamo maestri per quanto riguarda l'ospitalità. Abbiamo degli ottimi ristoranti, anzi invito tutti i telespettatori, sicuramente conoscete i ristoranti di Gallo e di Petriano, però venite, 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 perché veramente siamo maestri, vi prendiamo la pancia. Dopodiché io dico in questo periodo proprio particolare almeno godiamoci a tavola le grosse peculiarità che abbiamo e le buone peculiarità che abbiamo. Certo, a quel punto il ciclista dopo che si è fatto una bella maniera deve andare a smaltire. Esatto, deve andare a smaltire. Chiudiamo allora a questo punto con un riferimento che è oltre la pubblicità, perché praticamente è un posto talmente famoso che non ha bisogno di essere pubblicizzato, per cui noi lo possiamo pubblicizzare che è il fiore all'occhiello dal punto di vista della ristorazione. Sì, da noi diciamo a Gallo c'è il ristorante da Ciacci, io in qualsiasi parte d'Italia vado, tra chi è che è venuto all'Università d'Urbino, tra chi ha fatto feste dei laurea, tra professori, lo conoscono tutti, quindi ormai sono tanti anni, poi ci sono anche tanti altri ristoranti, però quello è il fiore all'occhiello che è conosciuto ormai da tanti anni in tutta Italia. Quando un nome riesce addirittura a identificare un territorio vuol dire che ha raggiunto un risultato importante, insomma, quando ti dicono Petriano, Adel Gallo, adattati, sono stato a mangiare da Ciacci. Esatto, per cui a quel punto il cerchio è perfetto. Come vedete per la mia linea ogni tanto ci va comunque. E allora guarda, io sono da quelle parti lì praticamente. Va bene, io credo che veramente abbiamo detto tanto, abbiamo fatto conoscere, incuriosire sul territorio, le termine sono aperte in questo momento? Le termine riaprono ad aprile, fanno il periodo sempre aprile, fine novembre, ok, ok. Quindi poi al limite tra un paio di mesi faremo qualcosa assieme anche riguardo le termine. Bene, bene, bene. Avremo sicuramente da aggiornarci sulle termine, sul Gallo d'Oro che deve partire, sull'e-bike, se si riesce a... ti inviteremo all'inaugurazione e faremo un gerato assieme. Sì, anche perché insomma io sto benissimo nel salotto di Casa Rossini, però anche uscire ogni tanto ci vuole, insomma, per cui ho voglia di venire a scoprire questi territori che i sindaci ci hanno portato a conoscere. Faremo, diciamo, salotto Raffaello Petriano. Esatto, 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 esatto. Ottima, ottima idea. Benissimo, allora, Grazie Paolo, grazie a TV Russini, grazie agli telespettatori. Grazie a Davide Fabrizioli, sindaco di Petriano che ci ha fatto conoscere veramente bene il suo comune, il suo territorio. Adesso... E buona giornata. Facciamo l'esito, stai pure perché tanto c'è il momento della pubblicità. Allora, l'esito del nostro sondaggio 38% auto, 62% moto, che è una cosa che mi entusiasma. Ringraziamo tutte le persone che ci seguono e interagiscono, tra questi Allegra ha notato i nomi di Giacomo, Giovanni, Barbara, Cristina, Andrea, Claudia e Silvia e poi ringraziamo ovviamente Gulliver che ci ha permesso di allestire il nostro salotto di Casa Rossini e Titiano Donzelli che per ora è presente solo con questo vaso che ci ha lasciato l'ultima volta che è venuto ma sta preparandoci tante altre cose e nei prossimi giorni. Esatto, grande, grande artista pesarese che abbiamo avuto ospite con noi. E adesso andiamo in pubblicità e poi torniamo subito dopo con Cristian della Chiara che abbiamo identificato solo come responsabile della mostra internazionale del nuovo cinema ma scopriremo poi dopo direttore artistico della mostra internazionale del nuovo cinema ma scopriremo poi dopo che ha veramente una sfilza di cariche che onora naturalmente tutte con un'operatività fuori dal comune. Grazie, restate lì e ci vediamo fra pochi minuti. eccoci allora scaletta un po' rivoluzionata appunto per compensare l'assenza del secondo ospite previsto per motivi personali e improrogabili non poteva esserci per cui noi abbiamo rivoluzionato un po' oggi non ci sarà il video musicale che però l'abbiamo comunque messo da parte per lunedì e finalmente siamo qua con a questo punto il secondo ospite Cristian Cristian della Chiara non ti conoscessi voglio dire potevo anche sbagliarlo la qualifica ma me l'ero segnata devo svelarvi retroscena me l'ero segnata nel primo foglio poi il primo foglio l'ho appoggiato qualcuno l'ha fatto sparire lo trovavo più per esigenze di ordine brava Allegra è attentissima e allora aspetta ecco lo riprendo direttore organizzativo mosto internazionale del nuovo cinema giusto? è corretto buongiorno a tutti grazie Paolo dell'invito grazie Rossini buongiorno Cristian allora siamo qua e noi siamo qua anche per riprendere discorsi fatti abbiamo fatto quella bella cosa prima del festival dei GAD nella quale abbiamo fatto l'età prima e durante prima e durante e a fine infatti insomma il festival l'abbiamo seguito con molta attenzione oggi non parleremo solo di questo ma prima di tutto con te oggi come con gli altri vado a scoprire alcune caratteristiche dei nati nel giorno tu sei nato il 30 di dicembre esatto che insomma sarà da far tribolare tua madre fino al 30 dicembre invece di andare a fare la festa di Capodanno insomma vabbè e se lo trovo adesso perché eccolo qua il 30 dicembre è il giorno dell'autorità laconica strana sta cosa poi perché laconico direi proprio di no chi si occupa di teatro mi è spiazzato devo dire i nati il 30 dicembre sanno comunicare agli altri il proprio messaggio in pochissime parole ah laconica in quel senso lì stringata forse da quel punto di vista lì può essere anche vero di norma scrupolosi osservatori delle tradizioni e dei metodi consolidati si fidano solo di ciò che è vero e sperimentato sono bravissimi a gestire un'azienda o un'organizzazione e detestano le inefficienze e gli sprechi di qualunque genere beh direi che come introduzione già ci siamo lusinghiera sono nati nello stesso giorno Kipling Rudyard Kipling lo scrittore quello per intenderci il libro della giungla insomma ecco tanto così abbiamo capito tutti è la poesia del sé è la poesia del sé giusto giusto capitani coraggiosi insomma diverse cose belle e John Milne che ammetto di non conoscere l'ingegnere minerario e geologo inglese uno dei primi sismologi credo anche Paolo Villaggio ah sì credo qui non c'è ma chissà abilissimo pragmatico realista sono i pregi i difetti non li leggiamo mai più perché li leggevamo ma vedevamo delle facce del tipo non c'era tutta sta gioia e allora ho detto da sentire siccome questo è un programma gioioso e allora perché andare a spingere queste cose allora il nome ovviamente capirai io vado a fare le etimologie dei nomi ma Christian cosa vuoi che voglia dire il seguace di Cristo è facile insomma già più difficile per esempio sapere che Paolo vuol dire piccolo molti non lo sanno perché Paolo in latino vuol dire poco piccolo poco Paolo post mi ricordo quando c'erano le versioni che voleva dire poco dopo e allora dovevamo scegliere perché abbiamo detto appunto che Christian ricopre diverse incariche diversi ruoli e abbiamo deciso di scegliere questo discorso della mostra internazionale del nuovo cinema perché si sposa pienamente con la filosofia di cui parlavo prima anche con il sindaco di Petriano del facciamo come se cioè oggi voi avete deciso di organizzare e di cominciare a lavorare l'organizzazione di una nuova edizione della mostra internazionale del nuovo cinema come se come se si potesse fare con tutto quello che state organizzando esattamente perché pochi giorni poche settimane fa abbiamo annunciato le date e abbiamo anche iniziato quella che è una nostra nuova filosofia quella anche di annunciare un pezzettino alla volta anche i contenuti quindi l'idea è quella di ritornare nella nostra collocazione standard che è quella di metà giugno quindi quest'anno le date previste sono dal 19 al 26 giugno e per la cinquantesima edizione della mostra internazionale del nuovo cinema quindi abbiamo aperto il bando per poter iscrivere i propri film al concorso principale del festival il premio Lino Micichè e abbiamo anche annunciato un ospite particolarmente prestigioso Liliana Cavani che abbiamo annunciato proprio nel giorno del suo 88esimo compleanno ospite e siamo particolarmente felici sia perché è un grande maestro del cinema e anche perché poi è una donna una regista non diciamo sono meno frequenti quindi siamo particolarmente contenti di dare uno spazio cosa che in realtà nel nostro festival già da diversi anni stiamo facendo con sempre crescente intensità quindi dare uno spazio alla cinematografia al femminile quando il femminile si parla dietro dietro la telecamera quando la donna è con lei che dirige il film quindi abbiamo annunciato questo dici bene tu come se nel senso che ad oggi abbiamo ritenuto fosse ragionevole ipotizzare che le condizioni consentiranno non sappiamo esattamente in che modo ma comunque consentiranno di fare il festival a giugno e quindi ci stiamo concentrando per farlo in questa in questa collocazione nuova ma in realtà vecchia perché quella è quella solita il pensiero naturalmente va all'edizione 2020 che per diversi mesi sembrava un'edizione persa nel senso che a maggio eravamo chiusi tutti in casa ancora con un lockdown molto stretto fino ai primi di maggio non si usciva di casa a maggio si è cominciati a tirare fuori un po' timidamente la testa i tamponi guariti si facevano tutti i giorni e qualcuno finalmente poteva muoversi e tutto il resto e poi invece un'accelerazione fortissima un lavoro encomiabile e siete riusciti a realizzare un'edizione comunque memorabile si tra l'altro stanno scorrendo le immagini direi molto emozionanti che ricordano quello che stavi appunto dicendo di un di un'edizione che ho già più volte detto e con convinzione vediamo in questo momento tanto per esatto un anno in cui avrebbe sarebbe stato forse normale non fare il festival abbiamo fatto quella che a mio modo di vedere è una delle edizioni più importanti degli ultimi vent'anni restando solo a quelle che conosco in maniera più diretta per tanti motivi innanzitutto per il significato che ho avuto e qui devo dire che possiamo allargare questo significato al festival del cinema al rossino per festival volendo anche al gad per restando nelle cose che seguo più da vicino perché sono state fatte delle edizioni di resistenza in cui però la resistenza non ha mai significato concedere nulla alla qualità o all'entusiasmo offerto anzi al contrario sono state edizioni particolarmente significative anche per le novità che sono state proposte e poi magari torneremo sulle altre edizioni ma adesso fermandosi al cinema diciamo un'edizione fra le più importanti degli ultimi vent'anni a iniziare dall'inizio è iniziata con un concerto Lucicchini dappertutto che credo di poter serenamente dire che è stato l'evento live musicale forse più importante dell'estate italiana certamente perché sono stati ahimè pochi concerti ma per la qualità del cast che abbiamo radunato in piazza Pesaro ma permettimi di aggiungere anche per il significato che ha avuto questo concerto è stata una serata lo ricordo dedicata alla memoria di Mirko Bertuccioli amico del festival ma amico della città ma personaggio di assoluto primo piano nel panorama musicale nazionale e quindi c'è stato questo omaggio prima commosso ma poi direi veramente anche gioioso dei musicisti degli artisti intervenuti e di tutta la città quindi è stato non potevamo veramente augurarci un momento più intenso per iniziare il festival ma soprattutto per ricordare un caro amico che ricordo era anche collaboratore del festival proprio l'anno scorso avevamo in programma di affidare in maniera ancora più strutturata a Mirko e a Vittorio la direzione della parte musicale del festival quindi dopo questo inizio il festival è proseguito su questi livelli altissimi e lo ricordavi tu la presenza di Oliver Stone qua a Pesaro ma aggiungo anche quella di John Landis seppur dalla sua casa di Los Angeles ha fatto sì che John Landis io ero presente tra il pubblico perché non potevo assolutamente mancare a una proiezione pubblica di Bruce Brothers Bruce Brothers è uno dei film che io dico sempre quando per caso mi cimbatto a qualunque ora del giorno o della notte dico mannaggia perché io finisco per guardarlo tutto per forza non ci si può esimere per cui cerco spero delle volte di non capitarci perché se ci capito che sto per andare a dormire insomma rimango a guardarlo per cui figurati se potevo mancare in piazza e il collegamento in diretta con John Landis e questa sua voglia di esserci arrivava e traspariva in un modo fantastico io ho avuto anche una specie di miracolo personale perché ho capito tutto quello che dicevo in inglese io l'inglese non lo so così bene però l'ho capito prima delle traduzioni e deve essere successo qualcosa di magico hai fatto molto bene a ricordare l'entusiasmo ma direi la generosità con cui John Landis è stato nostro ospite perché è stata un'intervista molto lunga molto interessante ha raccontato un sacco di aneddoti un sacco di dietro le quinte appunto di una costruzione di Bruce Brothers ma poi anche di altri altri suoi film è stato così sorridente gioioso e generoso e poi considerate che abbiamo fatto una prova nel pomeriggio quindi che nel pomeriggio ne raccontate tante altre quindi è stato veramente un momento bello concluso poi con quel ciao Pesaro che è diventato un po' uno slogan anche prezioso da riciclare in varie occasioni John Landis che dice ciao Pesaro insomma è stata una bella conclusione si percepiva proprio quasi quasi da pensare alla pesarese oh ma questa non va via più perché non la voglia ti confesso che qualche preoccupazione ovviamente saremo stati tutti tutta la notte però poi abbiamo dei limiti quell'orario il film non poteva finire troppo tardi il film era lungo però nessuno se la sentiva di togliere la parola John Landis e quindi l'abbiamo lasciata andare io mi immagino queste riunioni che avete fatto nei momenti più difficili appunto di maggio del covid eccetera nelle quali avete dovuto fare delle scelte e poi questa soddisfazione forte dopo che si spengono le luci e sai di aver fatto una gran cosa è una delle parti veramente bellissime del lavoro che fai io bravo assolutamente quella passata è stata indubbiamente per me non solo per me per tutti coloro che è stato un anno difficilissimo per tutti lavorativamente parlando personalmente è stato il più faticoso perché poi considerando anche che slittando il festival del cinema è andato in continuità con il Rossino per la festa due manifestazioni in cui sono diciamo molto impegnato e che quindi si è venuto a sovrapporre anche il carico di lavoro quindi è stata certamente la più faticosa ma indubbiamente anche per questo quella di più grande soddisfazione come dici tu quando poi l'ultima sera si è detto arrivederci al prossimo anno è stato veramente un momento emozionante direi anche commovente perché eravamo consapevoli di aver fatto una cosa grande grande con presunzione forse dico anche importante preziosa non per noi ma per tutta la collettività il territorio perché comunque Pesaro soprattutto negli ultimi anni crede molto investe molto anche nella proposta culturale che in realtà è proprio nel DNA della città da tanto tempo se è vero che la mossa del Cina è la 57esima edizione il ROF la 40esima il GAD la 74esima quindi voglio dire è patrimonio del DNA del nostro territorio puntare molto credere molto nell'offerta culturale ma quest'anno direi che l'offerta culturale è stata chiamata a un ruolo ancora più importante che è quello di rinascita anche economica poi perché poi cultura è anche economia nel nostro territorio scusa vado un po' a volo d'uccello qua e là esatto voglio dire abbiamo degli studi che ce lo mettono nero su bianco quanto sia importante l'investimento in iniziative culturali ovunque e quanto nel nostro territorio grazie a realtà così forti così preziose questo moltiplicatore generato moltiplicatore economico generato dalla cultura sia particolarmente forte quindi quest'anno siamo stati chiamati a un ruolo anche più forte anche perché c'era bisogno anche di un impulso alla ripresa economica rappresentata dall'offrire più opportunità ai locali a portare gente per avere più gente che poi andava nei locali che andava nei negozi che contribuiva a rilanciare una città e ci auguriamo che quest'anno si possa intraprendere in maniera ancora più forte ma direi anche definitiva questo ruolo di rilancio perché siamo veramente stanchi del resto tutto questo a radici antiche perché io ricordo di averlo imparato da te in occasione di uno dei tour del teatro segreto che il teatro Rossini viene ristrutturato per volontà delle famiglie ricche di Pesaro che cercavano un'occasione per far lavorare quelli che non riuscivano a sbarcare il lunario e non decidono di farli lavorare costruendo non so cosa e decidono di farli lavorare mettendoli al lavoro alla ricostruzione di un teatro perfetto questa è esattamente la conferma di quanto dicevamo è nel DNA della città trovare nella cultura un'occasione di rilancio anche economico anche sociale lo ricordavi bene ed è giusto il teatro Rossini è stato è nato nel 1818 inaugurato i lavori partono nel 17 in un anno di spaventosa crisi economica abbiamo passato l'anno senza estate l'anno in cui parte da lontano la storia perché un vulcano dall'altra parte del mondo fa un'eruzione spaventosa e la nube di polveri viaggia e fa sì che l'anno successivo l'Europa non c'è sole non c'è sole non c'è agricoltura non c'è agricoltura non c'è economia la gente non mangia cosa facciamo siamo nello stato della chiesa non si pensa nemmeno probabilmente a mettere mano a un teatro però c'è qualcuno più illuminato degli altri Giulio Perticari che dice forse conviene ribaltare il paradigma occasione di lavoro nel cantiere teatro e riparte l'edificazione con qualche difficoltà iniziale ma poi in realtà con tante slanci i lavori procedono rapidamente e il teatro parte con quello ma se vogliamo continuare su questo solco anche il Festival GAD nasce con la stessa funzione dopo le macerie della seconda guerra mondiale forse il GAD è la prima occasione ufficiale di massa diciamo così per le persone per riappropriarsi di una parte preziosa della vita che è il consumo di beni culturali quindi la gente provata da anni di guerra trova voglia di riuscire di casa e rivedersi anche grazie alla proposta del GAD che nasce nel 1948 e che dal 48 non ha mai saltato non si è mai interrotta ecco noi siamo figli di questa cosa qua per cui pensiamoci quando seguiamo le iniziative faccio una capriola scusa se ti interrompo alla luce di tutto questo quanto è coerente la candidatura di Pesaro a capitali italiani della cultura e lanciando il sasso ancora più lontano a capitale europea nel 2033 quindi è una ce lo meritiamo insomma questo è il senso quelli che sono lì a casa che dicono ma ce lo meritiamo perché abbiamo una storia e soprattutto questa storia non si è mai interrotta non abbiamo delle radici lontane poi perse abbiamo una storia che ha seminato e che è cresciuta e che è riconosciuta non siamo noi che ce lo diciamo ce lo raccontiamo perché se fuori da Pesaro si parla in qualunque parte del mondo se si parla di Roccino Opera Festival si è consapevole di parlare di una cosa grande importante la stessa cosa vale per la mossa del cinema e la stessa cosa vale per il GAD che in tutta Italia è riconosciuto come la più importante manifestazione di teatro non professionistico io stavo facendo un'altra riflessione quando tu mi dicevi adesso appunto dei 50 anni prima abbiamo parlato col sindaco di Petriano sono i 50 anni del gallo d'oro ho sentito ma cosa è successo in quegli anni 70 voglio dire erano anni difficilissimi io ci sono nato te ci sei nato io ero già grandino però erano anni veramente anni difficili che poi sono sfociati negli anni di piombo e tutto in quegli anni così difficili di fermenti nascono delle iniziative come queste e questo è un altro segnale forte secondo me un altro segnale importante è forse anche un auspicio a cui aggrapparsi in questo periodo dove sicuramente è un periodo difficile che sia come già stato in passato magari stimolo per creare qualche cosa di ancora più importante e duraturo certo allora mi hai già spiegato che la formula comunicativa della mostra del nuovo cinema della mostra internazionale del nuovo cinema è quella di somministrare piccole pillole andando avanti per cui io non ti posso chiedere tutte le cose che ci saranno perché tu non me le diresti nemmeno sotto tortura però qualcosina ce la puoi anticipare anche perché questo è il programma delle anteprime quando qualcuno quegli ospiti vengono qua e hanno qualcosa pronto lì da annunciare di solito utilizzano questo strumento e la diretta ormai è una tradizione per cui qualcosina rimescola e tira fuori qualcosa che mi puoi raccontare allora sbilanciandomi il massimo che posso fare ma poi dico che a breve contiamo di poter presentare la nuova sigla perché una cosa che ti posso confermare è che stiamo lavorando proseguendo una tradizione autoriale che abbiamo inaugurato qualche tempo fa abbiamo affidato non chiedermi di più però abbiamo affidato a uno straordinario artista il compito di fare la sigla del festival e contiamo magari differentemente dagli anni passati di anticipare molto anche questa cosa e magari nel metà marzo forse fra un mesetto riusciremo a dare la sigla e quindi ovviamente poi chiederemo anche a Rossini TV di amplificare questa eco e quindi di aiutarci a diffondere ma è veramente un artista abbiamo veramente conquistato la firma di un artista veramente straordinario ricordiamo che la sigla almeno nella mia visione è qualcosa che riesce in maniera mirabile in una mangiata di secondi perché poi va prima di tutte le iniziative non può essere troppo lunga non può essere un balletto per capirci perché sarebbe una cosa troppo troppo invasiva riesce in quei pochi secondi a sintetizzare quella che è non solo la filosofia del festival ma il tema intorno al quale ruota il festival di quell'anno per cui è un vero e proprio oggetto d'arte esatto raccolgo l'assist forse involontario però la sigla dell'anno scorso affidata a due autori locali ma di fama assolutamente che va ben al di là dei confini locali che sono Stefano Franceschetti e Cristiano Carloni hanno fatto la nostra sigla che guarda caso è proprio parte di un progetto che li riguarda e quindi diciamo così un progetto in proprio il termine però diciamo espositivo che riguarda il loro lavoro dove la mostra del cinema entra di diritto perché di fatto è un piccolo un piccolo capolavoro condensato in pochi in pochi secondi sul festival diciamo qualcos'altro possiamo parlare dei GAD ma sul festival diciamo che confidiamo come detto facciamo come se e il come se significa anche confermare le invece no una cosa te la voglio dire sempre sul festival è una cosa a cui tengo particolarmente non è esattamente un'anteprima perché fra le righe l'abbiamo già detto ma adesso c'è da dire qualche cosa di più il festival lo dicevamo ha una lunga storia ma anche un lunghissimo un preziosissimo patrimonio che non è un patrimonio monetario ma è un patrimonio di saperi che è racchiuso nell'archivio del festival quindi uno dei punti d'onore della nostra attività è quella di pubblicare tanto tanti documenti tanti libri che di fatto sono poi i libri che si usano nelle scuole di cinema spesso si fa riferimento alla collana Pesaro Nuovo Cinema e quindi tanto è stato prodotto tutto questo archivio soprattutto bibliografico ma anche fotografico documentale video è stato l'anno scorso riconosciuto dal ministero come un bene di interesse nazionale sottoposto a tutela della soprintendenza stiamo velocemente lavorando al completamento della prima fase di indicizzazione e archiviazione e contiamo a giugno in occasione del festa di poter finalmente aprire le porte del nostro archivio e poterlo fare consultare dalle persone cosa che in realtà ci viene richiesta di continuo almeno due o tre volte al mese ma forse sto anche troppo basso ci arrivano richieste da tutto il mondo da tutto il mondo per poter consultare il nostro archivio ti posso raccontare anche un aneddoto anche simpatico su questa cosa tempo fa mi scrisse un giornalista dall'Iran per chiedere di poter vedere se c'era una lettera che Lino Micike fondatore del festival scrisse a un regista iraniano nel 1964 l'anno prima della prima edizione del festival e io di questa lettera ovviamente non so nulla però stiamo mettendo mano all'archivio se dovesse venire fuori volentieri però adesso l'archivio è assolutamente inaccessibile però era così prezioso evidentemente per lui che mi ha scritto tante 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 volte e io che contavo di poter andare più veloce ma poi devo dire guardi ancora purtroppo non si può insomma succede questo fatto che una mattina mi chiamano dal comune di Pesaro e mi dicono Cristian scusa c'è un signore iraniano che chiede di te praticamente questo signore è andato da lì è venuto a Pesaro è andato in comune che è l'unico posto che sembrava potesse essere un riferimento a chiedere di me per poter chiedere e quindi a quel punto siamo andati in questo archivio dove c'era scatolone o meno non abbiamo trovato la lettera abbiamo trovato un catalogo del cinema iraniano comunque intanto qualche cosa era e poi abbiamo rimandato una ricerca più approfondita quando avremmo completato la cosa però non invitato si è presentato qui me la stanno facendo un po' lunga adesso ci penso io pensavo che scherzassimo che non prendessimo dovutamente sul serio la richiesta e quindi niente male come aneddoto allora abbiamo pochi minuti tutto sommato per parlare dei GAD ma i GAD sono ancora un po' in là ma soprattutto del premio invece Antonio Conti che è a scadenza è vicino insomma sì quest'anno è la terza edizione del premio Conti dopo un successo devo dire anche sorprendente delle prime due se non altro per la rapidità con cui il premio si è affermato un po' nel panorama nazionale dei concorsi di drammaturgia è un concorso appunto di drammaturgia quindi raccogliamo copioni con l'intento poi di promuoverne la messa in scena o la diffusione di copioni contemporanei italiani che magari faticano un po' a imporsi quest'anno è cambiata leggermente la formula dopo i primi due anni un po' più sperimentali in cui c'era un'unica sezione aperta a tutti quest'anno abbiamo distinto un premio riservato ai più giovani un premio open come l'anno scorso è un premio riservato agli spettacoli mai andati in scena e la scadenza del bando è fissata a fine febbraio quindi se chi e chi ha nel cassetto un copione oppure una rapidità di scrittura che gli consente di arrivare a produrre questo copione entro fine mese può scriverci tutte le informazioni sul sito www.festivalgadpesero.it e partecipare a questo concorso che è abbastanza articolato interessante nella sua formula perché vive in un bienio il primo anno si raccolgono i copioni si valutano e si decide che è il vincitore questo copione che vince viene passato messo in pasto diciamo così a i gruppi di teatro universitario fra i quali viene scelta la progettualità che più ci convince e quello poi ha un anno di tempo per metterlo in scena e debuttare al festival dell'anno successivo quindi lo scorso festival fra le altre cose abbiamo visto anche il debutto del copione vincitore della prima edizione del premio Conti quindi proprio per questa biennalità nello scorso festival abbiamo messo in scena il vincitore della prima edizione premiato quelli della seconda e lanciato il bando della terza edizione per cui l'anno fulcro di tutto che poi doveva essere l'anno quello difficile che invece fortunatamente è riuscito a essere realizzato con le nuove tempistiche con la nuova impostazione e con tutto quello che ne segue fino proprio al momento è andata bene io c'ero è andata benissimo e anche lì è stato un momento un po' un po' forte perché nel momento in cui comunque festeggiavamo perché di festa si trattava la conclusione di un'edizione che era andata benissimo premiavamo tutti i vincitori alla presenza di tutte le compagnie che avevano partecipato al festival che erano veramente felici dell'opportunità avuta di tornare in scena dopo mesi in cui gli era stato impedito proprio in quella circostanza di festa arrivò la notizia verso le 10 e mezza 11 del mattino più o meno di questo nuovo decreto che chiudeva tutti i teatri e poi da allora sono ancora chiusi era da quel giorno lì sono ancora chiusi era il 29 ottobre se non sbaglio e da quel giorno sono stati ancora chiusi però ecco c'è stato questo momento un po' un po' forte in cui all'entusiasmo alla gioia di quel momento si è subito opposta il fatto che sapevamo erano tutti consapevoli che quella era l'ultima rappresentazione per chissà quanto tempo Rossini TV c'era io ero lì perché seguivo lo speciale e posso testimoniare un discorso molto commosso da parte di Christian lo posso ricordare benissimo e un discorso abbastanza arrabbiato da parte del sindaco perché il sindaco non l'aveva presa benissimo poi dopo chiaramente tutto quello che succede che va digerito e in qualche modo va metabolizzato però lì per lì lo shock è stato forte è stato forte considera che come come territorio come città sapevamo che era già partito il lavoro del Rossino per festival che 15 giorni dopo sarebbe andato in scena nel nostro auspicio speranza era un momento di grande coinvolgimento del territorio perché era la prima volta che si faceva un'edizione autunnale che quindi vedeva come naturale pubblico di riferimento anche un pubblico più locale quindi è stato uno shock hai detto bene è un trauma poi ovviamente la situazione sanitaria che sta al primo posto di tutto si è evoluta in una maniera tale che probabilmente ha dimostrato che è stata opportuna questa scelta seppur dolorosa però insomma quel momento ricordi bene ce lo ricordiamo così bene allora questa volta dobbiamo rispettare rigorosamente i termini perché se riesco a sforare anche solo con due ospiti invece che con tre vuol dire che sono io che non so fare per cui a questo punto chiudiamo io non sono stato laconico come diceva sì esatto chiudiamo chiudiamo niente ribadendo appunto che l'operatività è improntata la filosofia del come se ci si muove e si programma e si progetta come se il virus dovesse finalmente allentare la sua presa e darci la possibilità di farlo lo scopriremo nelle prossime settimane nei prossimi mesi se questa filosofia è vincente attraverso la realizzazione di tutte queste iniziative e di tante altre di cui non abbiamo parlato delle quali è protagonista assolutamente attivo e operativo Cristian della Chiara che è stato con noi oggi e che noi ringraziamo grazie a voi di l'invito grazie a voi il mio foglio è qua c'è qualcos'altro da aggiungere eh il sondaggio è vero il sondaggio auto scelgono l'auto l'aggiornamento in 54 la moto il 46% il 54% preferisce l'auto e il 46% la moto speriamo che si ribalti perché il sondaggio poi continua e oltre a Cristian della Chiara che abbiamo ascoltato e che è ancora qui con noi è stato con noi oggi aggiungi una voce al sondaggio io fra la moto e l'auto io vado a piedi con la fortuna di abitare vicino infatti meglio di tutti è stato con noi anche Davide Fabrizioli sindaco di Petriano con cui abbiamo lungamente parlato del suo territorio si conclude la puntata di oggi venerdì saremo con voi di nuovo lunedì con la diretta ma non perdete anche le repliche oggi alle 16 e alle 22 ovviamente prendete questi impegni come indicativi questi orari come indicativi domani pomeriggio alle 15.30 poi domenica c'è la lunga maratona che riassume e ripropone in sequenza tutte le puntate della settimana grazie Cristian grazie a voi grazie a tutti i telespettatori per essere stati con noi buona giornata e buon fine settimana 舞i come nor訴 grazie a tutti i telespettatori